Nella Tua misericordia, salvaci Signore, da ogni male, salvaci Signore, da ogni peccato, salvaci Signore, dalla morte eterna, salvaci Signore, per la Tua incarnazione, salvaci Signore, per la Tua gloriosa ascensione, salvaci Signore, per il dono dello Spirito Santo, salvaci Signore, noi peccatori Ti preghiamo, ascoltaci Signore, conforta e illumina la Tua Santa Chiesa, ascoltaci Signore, proteggi il Papa, i Vescovi, i Sacerdoti, e tutti i ministri del Vangelo, ascoltaci Signore, benedici questi Tuoi eletti, ascoltaci Signore, benedici e santifica questi Tuoi eletti, ascoltaci Signore, benedici, santifica e consacra questi Tuoi eletti, ascoltaci Signore, manda nuovi operai alla Tua messe, ascoltaci Signore, dona al mondo intero la giustizia e la pace, ascoltaci Signore, aiuta e conforta coloro che sono nella prova e nel dolore, ascoltaci Signore, custodisci e conferma nel Tuo santo servizio noi e tutto il popolo a Te consacrato, ascoltaci Signore, Gesù, figlio del Dio vivente, ascolta la nostra supplica, Gesù, figlio del Dio vivente, ascoltaci Signore, ascolta la nostra supplica, Ascolto Padre la nostra preghiera e fondi la benedizione dello Spirito Santo e la potenza della grazia sacerdotale su questi Tuoi figli. Noi li presentiamo a Te, Dio di misericordia, perché siano consacrati e ricevono l'esauribile ricchezza del Tuo dono. Per Cristo nostro Signore. Amén.